Diego, alza quella spada! L'idea è di difendere l'onore della famiglia della Vega, non di affossarlo! Ma padre, non posso tirare di spada e usare il ventaglio allo stesso tempo! Su, Diego, non sei venuto qui per sventolarti con il ventaglio! Ma allora non potrebbe farlo, Bernardo! Fa un caldo terribile! Se potesse stare alle mie spalle, io... Diego, attenzione! Diego, va tutto bene? Ma no che non va tutto bene! Questo giacchino è di seta pura e ora è macchiato e danneggiato in modo irreparabile, ma forse il mio sapone spagnolo riuscirà a... Presto, portami a casa, Bernardo! Non è esattamente un campione con la spada, dico bene, signorita! Non lascerò che l'onore dei della Vega venga infangato così! Parteciperò anch'io alla competizione! Ti prego, padre, no! Beh, amico mio, un obiettivo l'avete raggiunto! Avete ridicolizzato il vostro rivale di fronte alla signorita! Peccato però che Zorro non si sia ancora fatto vedere! Fidatevi, io so che verrà! Presto, Bernardo! Non dobbiamo farli attendere troppo! Sono così ansiosi di catturare Zorro! Vai, Tornato! Congratulazioni! Bravo, amico mio! Bravissimo! I nostri semifinalisti sono... Il prode Capitano Monasterio e il signor Don Luis Villalonga! Allora, vi state divertendo, Don Luis? Certo, Capitano! In effetti potrei anche vincere la gara, nonché la medaglia del nostro famoso maestro! Oh, ne siete convinto? Signores! Capitano, dimenticate che è un torneo amichevole, non all'ultimo sangue! Ancora convinto di vincere la gara, Don Luis? Ora basta! Mangar, Capitano! Ancora convinto di vincere la gara, Don Luis Villalonga!